Cari concittadini, oggi inizia il percorso di riscatto del tuo paese. Ma questo sarà davvero possibile, se darei forza a quanti si propongono di realizzarlo. La compagine di impegno sociale. Se lungo il tuo cammino incontri chi ha più bisogno di te, porgile la mano. Si ricorderà sempre del tuo gesto e conoscerà la felicità, perché lo hai accrezzato come uno della tua famiglia. Se nella tua vita hai avuto la fortuna di non conoscere sul tuo corpo l'entica, guardati intorno e troverai il tuo simile che ha bisogno della tua carezza per gioire, pur nella sofferenza. Se ogni giorno vedi tuo padre e tua madre che si preoccupano per un tuo problema, ritieni ti chiamato a non far mancare il bene di una famiglia anche a chi non ha potuto averla. Avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio. Eccoci, noi siamo pronti. Il domani di lungro è nelle tue mani. Io, quel che sono l'ho voluto io, l'enzuola bianca per coprirci non ne ho sotto le stelle in piazza grande. E se la vita non ha sogni, io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande. Tra i gatti che non ha un padrone come me.